Buona mercoledì 27 ottobre. La porta d'ingresso al Regno dei Cieli è stretta e siamo chiamati alla puntualità nel presentarci. Stretta è anche la via che dobbiamo percorrere. Faticosa è controcorrente rispetto alle infinite seduzioni della mondanità. Ma quando arriveremo in ritardo? A causa della nostra propensione a coltivare la mondanità piuttosto che il Regno di Dio, troveremo quella porta chiusa. Busseremo, ma non saremo accolti. Anzi, saremo disconosciuti chi siete voi, da dove venite. Ormai la porta è chiusa. È un invito ad agire con prontezza, non farci trovati preparati al momento della necessità di scegliere tra la via stretta e la via maestra che ci porterà lontano e ci costringerà a tornare sui nostri passi, arrivando in ritardo perché abbiamo coltivato l'ingiustizia. Abbiamo seguito i valori di una mondanità che si attarda a consumare, depredare, l'umanità che non ascolta. Poi quando viene l'ora si rammarica perché anche i suoi deliri di onnipotenza si infrangono di fronte alla transitorietà della vita, alla comprensione che la vita nella sua eternità non coincide con una nostra singolare immortalità. Oggi viviamo una contemporaneità, una mondanità che è intrisa da elementi di palese ingiustizia per cercare di appropriarsi il segreto dell'immortalità e perdiamo di vista ciò che accade lungo il percorso della via stretta e della porta stretta, quello di sentirsi gioiosamente appartenere alla vita stessa. quel invito a essere ultimi per poter essere i primi che si affacciano su quella porta stretta ed entrano comodamente, a condizione però che continuiamo ad essere ultimi. Se in noi sorgesse l'idea che strumentalmente ci facciamo ultimi per essere primi non faremo altro che coltivare quel delirio di onnipotenza che sembra prevalere in coloro i quali primeggiano nella carriera, nel possesso, nella produttività, nell'efficienza. È questo che caratterizza la strada larga che porta verso il nulla. Gesù oggi ci invita appunto a essere operatori di giustizia, nell'umiltà, nell'ascolto di una via difficile, stretta, ma feconda, gioiosa. È una fatica che ci porta alla liberazione da tante nostre presunzioni che ostacolano la puntualità nel presentarci a quella porta stretta attraverso la quale scopriamo l'appartenenza alla vita eterna, l'appartenenza cosmica che deve caratterizzare la vita di ciascuno, liberandoci dall'angoscia della morte e consegnandoci una vita serena, sobria, feconda, accogliente e condivisa. Buona giornata a tutti.